e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi raggiungeremo la soia 62 perché c'è solo 10 gettoni però c'è anche l'evento doppi gettoni e quindi penso che c'è quindi ce la faremo e se non vi faccio vedere cosa solo visto che anche brol pass oltre alle 20 gemme c'è anche la mega pass da prendere quindi spero di trovare qualcosa che è un broler leggendario voi mi chiederete manuele ma non mi sto esagerando chiedere brole leggendario e vi faccio vedere probabilità cioè penso che più alto di questa cioè io ho visto che se apro la mega cassa penso che se non trovo niente si dovrebbe alzare la probabilità ma vedremo infatti faremo una partita in dominio e proveremo a vedere se riusciamo a raggiungere la soia 62 ok ma forse sta tornandoci un po' ok ma forse è difficile ok ok ma forse è difficile ok ok ma forse è difficile ok abbiamo recuperato un botto Ok, ragazzi, ho vinto GG Ok, ragazzi, io spero di trovare qualcosa Perché mi serve Tanto io sono un brawler leggendario Perché, cioè, ragazzi Non è che voglio arrivare fino alla massima probabilità dei leggendari Perché se no È tanto 7 skip Eh, mi sa di una, ragazzi Infatti Cioè, ragazzi, io dico Ma quando mi voglio affrontare questo brawler leggendario C'è una probabilità altissima Cioè, ma io voglio vedere le probabilità Ah, ancora 1615 Ma Io, ragazzi, proverei in una cassia enorme Ma 36 Niente Che, ragazzi, è bello che l'oro è pure basso E se mi ho detto che Se troviamo meno di 40 di oro C'è lo skip luminoso Però 46 C'è È un po' troppo Vabbè Cioè, ragazzi, io penso che Ehm Quando martedì usciranno le missioni Io penso di riuscire a prendere fino alla 65 Perché, visto che io purei Il brawler pass Penso che Ce la faccio Ma adesso Ehm Ci avremo roba assalto Sabato Però, ragazzi, quando Uscirà Sabato prossimo Penso Non questo sabato che verrà Ma l'altro Ehm Penso che Se uscire a ride Vi farò vedere Come scalerò Ehm Da una Tipo Se vedete Sono arrivato In ride Smodata 7 Perché Usando Poi Vi dirò Ehm Quando Che Chi brawler usare Per Scalare Di Di grado Come dire Su Ride Come dire Di livello Ehm Noi siamo arrivati Fino a Smodata 7 E Cioè Eravamo fortissimi Cioè Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate tanti like E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Sì Mia Sì Sì Grazie a tutti.